La Corte d'Assise di Appello di Firenze ha confermato la condanna a 18 anni per Massimo Parlanti, l'uomo che il 13 dicembre 2012 uccise l'ex moglie Beatrice Ballerini in quella che era stata la loro casa coniugale a Pieveanievole, in provincia di Pistoia. In primo grado, con rito abbreviato, Parlanti era stato condannato alla stessa pena. Come nel primo giudizio, anche la Corte d'Assise di Appello ha escluso la premeditazione, mentre invece non ha riconosciuto all'imputato le attenuanti generiche, cosa che invece chiedevano i difensori, rilevando che comunque Parlanti fece una confessione. Dopo la condanna con rito abbreviato, pronunciata dal giudice del Tribunale di Pistoia Alessandro Buzzegoli, il pubblico ministero Claudio Curreli, che aveva diretto le indagini dei carabinieri sulla tragedia, aveva presentato ricorso in Cassazione perché in quella sede venisse affermato quello che era il caposaldo della pubblica accusa, la premeditazione. Mi è dispiaciuto, ha dichiarato Lorenzo Ballerini, fratello della vittima, che non sia stato dato seguito al ricorso del PM Curreli. Parlanti, 45 anni, ex imprenditore di Monsummano, si consegnò ai carabinieri quattro giorni dopo l'omicidio. Quel giorno lui e Beatrice, che lavorava in banca a Prato ed era tornata a vivere con i due bambini a casa dei genitori a Campi Bisenzio, si erano visti anievole perché l'uomo doveva recuperare alcuni oggetti. Ci fu una discussione, poi la selvaggia aggressione, dopo la quale l'uomo andò a prendere i bambini a scuola e li tenne con sé fino a sera, per poi partecipare alle ricerche della moglie, che fu trovata la sera di quel 13 dicembre senza vita.